Questo praticamente si muove, in questo caso qua si rende operativo il defilatore e poi il defilatore è operativo. Perché si dice di ultima generazione? Si dice di ultima generazione perché i defilatori moderni praticamente hanno una sola coppia di piastra quindi è più facile in caso di emergenza, bisogna accenderlo, è un macchinario per tutti gli affetti, salvaviglia. Macchina in funzione, modalità adulti, modalità pediatrica, rimuovete gli abiti dal torace del paziente. Grazie.